Lanci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha scelto Pordenone, oltre a Lecce e Benevento, come città di laboratorio per sperimentare il modello italiano di Smart City. Costituito nel 2012, l'osservatorio Smart City del Lanci riunisce al momento 64 città italiane che a vario titolo stanno sperimentando percorsi legati all'innovazione e allo sviluppo locale. Ora l'osservatorio è entrato nella fase di sperimentazione del modello operativo. Il sindaco di Pordenone è Claudio Pedrotti. Oggi abbiamo avuto un incontro con l'osservatorio delle Smart City in Italia. Pordenone è stata scelta tra le tre città italiane che possono sperimentare che cosa vuol dire essere città intelligente, ma a Pordenone. Quindi quali sono le nostre necessità, che cosa vogliamo essere nei prossimi anni e in base a questo capire, visto che questo ci dà la possibilità di avere relazioni con l'Europa, con la parte italiana che si occupa del reperimento di fondi e di risorse, di quattrini, capire se questo ci dà la possibilità di far partire delle attività dove trovare chi le finanzi. Voi capite che per Pordenone è un'occasione che non può essere lasciata cadere nel vuoto. Noi ci impegneremo nei prossimi sei mesi proprio per definire meglio un programma di dove, come, chi coinvolgere per portarsi a casa queste risorse.